Buongiorno a tutti, mi chiamo Claudio Bianchini. Io mi scuso di rubare il vostro tempo con questo CD, però ritengo opportuno segnalare a chi ha il potere di poter fare indagini un po' più approfondite un fenomeno che non solo io, ma molte altre persone hanno scoperto e che veramente preoccupa moltissimo. Sto parlando di un fenomeno che si chiama scie chimiche, vale a dire un numero estremamente elevato, centinaia e centinaia di voli fatti da aerei militari, prevalentemente NATO, sono gli aerei cisterna, che volano sui cieli italiani e in particolare sulla pianura padana e che sembrerebbe abbiano effetti sul clima. Ora cerco di documentare un attimo la portata di questo evento innanzitutto, che è veramente eclatante e soprattutto il fatto che vi è più che un ragionevole sospetto la quasi certezza che sia un fenomeno occultato sia con il concorso dei mass media sia da parte delle autorità. Non so dire se sono autorità militari, politiche o civili tipo le prefetture, ma sicuramente un'operazione di copertura c'è ed è molto preoccupante. Allora, vado a cominciare a farvi vedere alcune immagini. Il fenomeno è già stato scoperto negli Stati Uniti a partire dai primi anni 90 ed è noto come chemtrails, che tradotto letteralmente vuol dire appunto scie chimiche. Da non confondersi, questa è una premessa importante, con le scie di condensa, che in inglese si dicono chemtrails, appunto scie di condensa. Le scie di condensa sono prodotte dagli scarichi di carburante, dal prodotto bruciato, dai reatori e arrivano molto calde, arrivano a contatto con l'atmosfera esterna, che è di solito meno 20, meno 30, ma anche meno 50 gradi, soprattutto in alto, ad alte quote, e si raffreddano di colpo, per cui si cristallizzano per alcuni secondi, ma una volta che sono diventate a temperatura ambiente, la scia, queste particelle, scompaiono, perché fondamentalmente è carburante. In 30 secondi non c'è più traccia di queste scie. Quello che invece io sto parlando è una cosa completamente diversa. Ecco qua. Ecco qua. Guardate questo filmato. Quello che vedete è il cielo che viene coperto da questa sostanza rilasciata dagli aerei e che rimane così coperto, purtroppo è un piccolo spezzone, rimane così coperto e non scompaiono le scie. E queste scie alla fine trasformano il cielo in questo modo. Vedete? Ci sono dei quadranti. Queste non sono scie di condensa, sono scie di una sostanza chimica sconosciuta per ora. Il cielo diventa così. Non è più limpido, non è più azzurro, ma diventa pieno di questa sostanza. Guardate queste altre immagini. Sono state scattate in Europa. Vedete? Questo è un aereo che scarica queste sostanze. Qui ce n'è un altro. Sono tutti aerei a bassa quota, senza contrassegni di compagnie civili. Guardate, questo è l'effetto di una scia. E ancora? Questi sono altri jet. Vedete cosa rilasciano da qua? Queste non sono... Sono a bassa quota, tra l'altro. Questa è un'immagine che potrebbe essere... Che è stata scattata a distanza ravvicinata, vicino al suolo. Potrebbe essere un aereo che sta scaricando il carburante prima di un atterraggio, ma anche un aereo che sta facendo uscire queste sostanze. Guardate, questa è una scia che dopo un'ora dal suo rilascio diventa così. Queste sono altre scie. Il cielo diventa tutto nuvoloso, coperto di una patina nuvolosa. Ci sono anche degli oggetti che sono stati trovati. Ma di questo se ne parlerà in un altro momento. Quello che adesso è il mio obiettivo è quello di sensibilizzarvi su questo fenomeno, perché è molto, molto diffuso e molto vasto. Qui ci sono tantissime immagini che sono state prese. Bene. Ora, vediamo un attimo di descrivere questo fenomeno. Queste sono immagini che sono state prese negli Stati Uniti negli anni 90. Ma ce ne sono migliaia, migliaia e migliaia. Ora, mentre scorrono queste immagini, le potete trovare sui siti di Nexus in Italia, ma ce ne sono veramente tante. Basta cliccare Sce e Chimiche su qualunque computer collegato a Internet. Dicevo, mentre scorrono queste immagini, dovete sapere che negli anni 90 gli Stati Uniti sono stati totalmente bombardati da queste sostanze. E guarda caso, tramite queste sostanze si è avuto un inaspiramento dell'aredità del suolo, un'acidificazione del suolo. Poi si è avuto una riduzione molto forte, molto marcata, del fenomeno delle piogge. E come risultato, dopo qualche anno di questo trattamento, ai contadini degli Stati Uniti, sono state offerte attraverso un programma federale misure di salvaguardia dell'agricoltura che praticamente sono consistite nel dare denaro ai contadini affinché comprassero sementi OGM. Sementi OGM che crescono anche in climi aridi. Questo è stato il risultato che è successo negli Stati Uniti. In tutti gli anni 90. Vediamo chi è che sta sostenendo questo. Innanzitutto abbiamo un filmato e un DVD, spero si veda, che è stato fatto da Gambino e Benvenuti, i quali dimostrano come negli anni 90 cittadini a confine tra gli Stati Uniti e il Canada e tra il Messico e gli Stati Uniti sono state oggetto di questi fenomeni di sostanze chimiche rilasciate dagli aerei. Questi signori, dopo diverse petizioni, hanno scoperto che queste sostanze chimiche contengono bario, alluminio, quarzo. Il bario serve per riflettere la luce solare, il quarzo scusatemi. Il bario e l'alluminio vengono usate per raffreddare e per cristallizzare le molecole di pioggia. L'acqua praticamente, l'umidità che è presente nelle nuvole. Peccato che sono sostanze molto tossiche. La portata di questo fenomeno negli Stati Uniti è pressoché totale. Quello che vedete alla mia destra è un link preso, un fotogramma preso dal satellite. Questo è il dato della fotocamera. Questa è la costa degli Stati Uniti. Come vedete, tutte queste scie sono quelle rilasciate dagli aerei, quindi coprono vaste zone. è artificiale, queste non sono nuvole. Guardate l'immagine successiva. Ecco, qui vedete la costa degli Stati Uniti e tutte le scie bianche che sono state fatte. Qui si copre tutta la costa sud-occidentale degli Stati Uniti. Sono sempre aerei militari, così ci dicono quelli che sono riusciti ad accedere a queste informazioni. Guardate queste. È incredibile. Queste sono tutte scie. Questa è un'altra parte dove fa vedere come è intensissimo il fenomeno. e questa è un'altra immagine con la ricostruzione del continente che vedete. Guardate che coincidenza. Bene. Bene. Allora. si stima negli Stati Uniti che ogni anno ci sono 62 milioni di voli per spargere queste sostanze. Vengono sparse con del ghiaccio secco. Ecco perché sono scie che rimangono per tanto tempo visibili e non si diradano. Perché il ghiaccio secco è già freddo ed ha più persistenza a queste sostanze. I campioni analizzati sempre negli Stati Uniti parlano di ossido di alluminio. L'ossido di alluminio effettivamente potrebbe essere utilizzato per raffreddare il pianeta. Però è anche vero che l'ossido di alluminio è una delle principali sostanze indicate dagli ecologisti che distrugge lo strato di ozono. Allora non si capisce perché devono fare una cosa del genere. Poi c'è il quarzo. Il quarzo è un cristallo che viene utilizzato sembra proprio per catturare l'umidità delle nuvole e farla precipitare. Di fatto il fenomeno negli Stati Uniti è conosciuto come crowdbuster cioè letteralmente svuotamento delle nuvole. È un po' come la chiappa fantasmi solo che qua chiappano le nuvole. Bene. Il risultato di tutto questo è che arrivano i temporali ma non piove oppure invece di piovere due ore e giorni piove solo un'ora o due ore. Allora la faccio breve adesso. Il fenomeno è visibile in Italia almeno da tre anni. Io stesso ho fatto numerosi filmati. Poi abito vicino all'aeroporto di Linate e ho potuto dopo centinaia di ore di osservazione decine di ore di filmati e veramente tante tante fotografie stabilire quanto segue. Uno. personalmente si vedono aerei che rilasciano queste scie chimiche la cui scia non scompare ma si allarga sul cielo e quindi rimane e contemporaneamente aerei che passavano le vicinanze che invece lasciavano davvero le scie di condensa scie di condensa che dopo qualche secondo scomparivano. Veramente a posizioni molto simili. Quindi quantomeno non stiamo parlando di scie di condensa secondo ho potuto personalmente verificare con tre mesi di osservazioni giornaliere da Milano da Segrate con l'aiuto di amici naturalmente da Treviglio e da Vigevano e da Merate quindi un arco abbastanza vasto della penura lombarda che tutte le volte che stava arrivando una formazione numerosa o un temporale comparivano dal nulla questi aerei senza contrassegni che inondavano letteralmente di sostanza le nuvole e succedeva sempre la stessa cosa che le nuvole all'inizio sembravano portare tonnellate di pioggia e alla fine piano piano dalle montagne si avvicinavano alla pianura padana si svuotavano letteralmente alla fine o non pioveva oppure veniva giù pochissima acqua terzo abbiamo notato non c'è stato quasi mai il giorno in cui non arrivavano questi scie nell'arco di una giornata sempre sono arrivati questi aerei che spargano queste sostanze abbiamo notato che le spargano anche quando non erano annunciate formazioni nuvolose o temporali in arrivo bene allora vuol dire che queste scie hanno a che fare con qualche cosa che noi respiriamo e non hanno a che fare soltanto con l'abbattimento delle piogge il fenomeno ovviamente non è stato notato solo da me questa è un'interrogazione parlamentare del 2 aprile 2003 io non so di che partito politico sia qui c'è Italo Sandi che appunto il 2 aprile 2003 ha fatto l'interrogazione parlamentare numero 405922 scie chimiche rilasciate dagli aerei bene siamo nel 2005 per la precisione oggi è il 13 luglio 2005 sono passati due anni e qualcosa e non si è ancora avuta risposta quindi il fenomeno è documentato già da tempo eppure non vengono date delle risposte poi sempre cercando un po' di accorciare facciamo altre tre considerazioni considerazione numero uno esistono delle società da parecchio tempo sia statunitensi che russe ma anche di paesi europei che come mestiere come attività spargono delle sostanze nel cielo per diminuire la pioggia o per far cessare la pioggia abbiamo avuto degli esempi in Russia durante le Olimpiadi stiamo parlando del 1986 ne abbiamo avuti altri durante il tricentenario di San Pietroburgo bene è avvenuto nel 2003 nel 2003 alla presenza di tutti i capi di Stato delle principali potenze hanno annunciato ufficialmente lo ha detto l'Ansa non l'ho detto io che venivano usati dei jet militari per bloccare le precipitazioni atmosferiche che in quei giorni erano previste dovessero arrivare quindi il fatto di non far piovere sono tecniche che esistono da diverso tempo e allora perché non lo dicono perché devono usare su una nazione come l'Italia degli aerei militari senza di niente alla popolazione civile questa è la prima considerazione la seconda qui si parla per far volare un aereo militare di qualcosa come centinaia di migliaia di euro o di dollari per volo si stima che solo su Milano o comunque sulla pianura padana ci siano almeno 5-600 voli ogni giorno perché si spendono questi soldi perché la gente non ne sa nulla è giusto questo sono una montagna di soldi terza cosa fondamentale per far volare degli aerei così che non sono non si alzano per seguire rotte prestabilite servono numerose autorizzazioni e di fatti sappiamo per certo non solo io che questi voli si vedono tranquillamente attraverso i radar quindi i controdolori di volo sono informati di questo e soprattutto le scie di questi